il maforte sceglie la strada del silenzio si avvalsa della facoltà di non rispondere la donna di santa maria del molise accusata di aver ucciso il marito nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di carlo giancola dirà di più sulla dinamica il metano dotto passerà nel bosco di corundoli raggiunto l'accordo tra la società gasdotti italia il comune nelle modifiche apportate il progetto terrà conto della tutela dell'ambiente appello a castrataro più impegno per la sanità dalla minoranza del consiglio comunale di isernia l'invito al sindaco ad un'azione più incisiva sollecitato il ricorso artar contro i tagli al veneziale feste di natale eventi e concerti luci e colori in tutti i centri della regione salutato il natale gli appuntamenti della solidarietà con musica cultura e tradizione un saluto a tutti voi dalla redazione da parte mia ancora buone feste buon santo stefano ben trovati all'edizione delle 14 del nostro telegiornale in apertura parliamo dell'interrogatorio che c'è stato oggi nei confronti di irma forte la donna di santa maria del molise accusata di aver ucciso il marito carlo giancola nella loro abitazione la donna ha scelto la strada del silenzio gli avvocati della difesa hanno imposto questa strategia suggerita anche dalle condizioni non ancora di lucidità della moglie dell'uomo trovato senza vita nell'appartamento della coppia sentiamo i dettagli nel servizio di enrico de simone ancora sotto shock per quanto accaduto la mattina della vigilia di natale tutt'altro che lucida irma forte non ha risposto alle domande del sostituto procuratore disernia marco gaeta titolare delle indagini sull'omicidio di carlo giancola il sacrestano di santa maria del molise ucciso dalla moglie secondo la ricostruzione dei carabinieri con dei colpi alla testa nel primo interrogatorio nella sede del comando provinciale gli avvocati che difendono la donna giuseppe de rubertis e demetrio rivellino del foro di campo basso hanno preferito la linea del silenzio in attesa dei risultati dell'autopsia ma anche per consentire alla donna di 66 anni di riprendersi dal trauma emotivo abbiamo avuto la possibilità di conferire con la nostra assistita però non siamo entrati nel merito dei fatti accaduti il 24 perché lei è molto provata e dunque si avvalsa della facoltà di non rispondere ora attendiamo l'udienza di convalida dove molto probabilmente valuteremo se rendere l'interrogatorio dinanziare al GIP e poi che venga dato l'incarico per l'autopsia solo allora potremo avere elementi più concreti per poi orientare la nostra attività difensiva al meglio ma non nelle condizioni adesso di ripercorrere quei momenti almeno allo stato ancora nessuna conferma sull'oggetto che Irmaforte potrebbe aver utilizzato per colpire alla testa il marito è ancora tutto da decifrare il movente che avrebbe fatto scattare nella donna il raptus omicida nelle prossime ore l'autopsia eseguita sul corpo della vittima dirà di più su quello che è accaduto nella casa dei due coniugi è stato raggiunto l'accordo con la società Gasdotti Italia e il comune di Montecilfone sul metanodotto che potrà attraversare il bosco di Corundoli il nuovo progetto modificato d'intesa con il comune terrà conto della tutela del bosco venendo così incontro alle richieste dell'amministrazione sentiamo Francesca Danversa una vicenda iniziata ai tempi della precedente amministrazione Pallotta e adesso dopo tre anni è stato raggiunto l'accordo tra il comune di Montecilfone e la Sigispa sul metanodotto che deve attraversare il bosco di Corundoli in passato ha spiegato in una nota il sindaco Manes non si è tenuto conto della natura demaniale dei luoghi si era raggiunto un accordo vincolante con la società viziato nella forma con opere impattanti e ristori compensativi iniqui da qui è partito l'impegno della mia amministrazione non facile di opporci e di sanare quanto fatto in precedenza e cercando di ottenere un diverso progetto rispettoso dei luoghi con indennizi consone all'opera proposta dopo numerose controverse giudiziarie e lunghe trattative il comune assistito anche dai legali Simone Coscia e Dario D'Alessandro sono riusciti ad ottenere un vantaggioso accordo per l'intera comunità le condutture si posizioneranno esclusivamente nella sede del tratturello già esistente con opere di ripristino e migliorative rispetto alla proposta precedente ha sottolineato il primo cittadino e tutto sarà fatto nella tutela dell'area boschiva e del suo intero ecosistema dalla commissione bilancio della Camera dei Deputati è arrivato il via libera all'emendamento alla manovra che consente l'abbattimento della fauna cervatica per motivi di sicurezza stradale anche nelle zone protette e in città il riferimento è soprattutto ai cinghiali che potranno essere abbattuti e sottoposti ad analisi igienico-sanitarie se l'esito sarà negativo potranno essere destinati al consumo alimentare Confagricoltura si legge in una nota accoglie con favore l'emendamento la decisione del governo risponde alla nostra richiesta hanno detto di porre un freno alla diffusione della specie selvatica e da Isernia arriva l'appello dai banchi della minoranza al sindaco Castrataro di mostrare più decisione nell'affrontare il tema della sanità è stato sollecitato anche il ricorso al TAR contro i tagli apportati al Veneziale il servizio è di Enrico Desimone L'amministrazione comunale di Isernia continua a prendere decisioni senza tenere conto delle posizioni della minoranza è quanto afferma il consigliere d'opposizione Cesare Pietrangelo che boccia l'operato di Piero Castrataro e della sua squadra con particolare riferimento alle questioni sanitarie per Pietrangelo non basta un presidio permanente per difendere l'ospedale veneziale quando dietro non c'è una chiara programmazione politica All'inizio della consigliatura il sindaco ha nominato un assessore la dottoressa Francesca Scarapeo, assessore alla sanità stava lavorando su questa cosa aveva proposto l'istituzione anche di una commissione speciale che si occupasse, che doveva fare indagini sulla sanità ebbene questo assessore è stato spodestato dal sindaco gli è stata tolta la carica la delega non solo, è stato mandato a casa io ho chiesto al sindaco ci spieghi una cosa se vogliamo veramente lavorare sulla sanità per l'interesse collettivo avevate nominato un assessore lo avete mandato a casa nessuno ha risposto ho chiesto al sindaco come mai è stata fatta una commissione speciale che doveva riferire sulla sanità questa commissione non è stata mai convocata l'ho chiesto con forza di avere una spiegazione non ci è stata data tra le iniziative dell'amministrazione anche una mozione sulle criticità della sanità isernina che sarà inviata tra le altre istituzioni anche alla procura atto che il consigliere Pietrangelo reputa come inefficace si presenta in consiglio comunale una mozione dove tra l'altro negli indirizzi appunto si faceva carico al sindaco di valutare questa mozione di mandarla a una serie di indirizzi ovvero anche alla procura della repubblica ho chiesto mi fate capire per quale ragione si vuole mandare questo documento alla procura della repubblica perché alla procura della repubblica si va per fare denunce non per far perdere tempo al procuratore ho detto se c'è qualcosa che sapete di illecito dovete denunciare non che si valuti si deve denunciare se c'è un illecito o se c'è un reato io ho chiesto al sindaco unitamente anche al consigliere di Luozza che siamo pronti a tassarci per fare ricorso attraverso l'unico organo amministrativo ovvero al Tar Molise affinché questo si possa adoperare per far riaprire i reparti chiusi presso l'ospedale di Segna Il suggestivo borgo di San Polo Matese è ancora teatro del presepe vivente oggi e domani con la quarantesima edizione una tradizione che si tramanda da generazioni e che sopravvive al trascorrere del tempo il presepe tra i più longevi del Molise coinvolge come ogni anno l'intera comunità con oltre 100 figuranti una festa della devozione che rappresenta anche la celebrazione degli antichi mestieri con costumi del tempo artigiani del legno, vetrai, scalpellini, calzolai e tante altre figure il presepe sarà rappresentato anche domani si intitola Lasciatemi tornare il film scritto e diretto da due giovani molisani un cast tutto locale girato tra Campobasso e alcuni paesi della provincia una commedia brillante e divertente che ammicca alla tradizione italiana di questo genere cinematografico domani alle 18 e poi alle 20 il film sarà proiettato all'Alfaville di Campobasso Tonino Danese ha incontrato i protagonisti di questo lavoro sentiamo Hanno 20 anni, studiano comunicazione hanno una grande passione il cinema, Luca, Umberto Belnudo e Francesco Pio di Gregorio Campobassani hanno realizzato il primo dei loro sogni scrivere, dirigere e produrre un film nella loro terra, il Molise domani nella sala Alfaville del capoluogo alle 18 e poi alle 20 va in scena il loro mediometraggio lasciatemi tornare interamente girato tra Campobasso e altri paesi dell'Interland presentato come una leggenda molisana più che altro per sfruttare il periodo magico in cui esce, che è quello del Natale parla banalmente tra virgolette di un molisano che ha fatto fortuna all'estero come tanti e torna qui in Molise per, diciamo, vivere un soggiorno tranquillo ma non ci riuscirà perché capiteranno una serie di tragicomiche avventure ai suoi danni Tutto è nato durante il lockdown L'idea è nata da un nostro amico da Mauro Montanaro che ci ha lanciato così per scherzo l'idea di girare un film per il Molise e noi abbiamo colto anche la seretà di quel piccolo scherzo e in pieno periodo di covid lockdown abbiamo iniziato a scrivere la sceneggiatura del film considerando anche che chiuse le scuole di teatro noi non ci volevamo fermare Una commedia brillante nella quale i rimandi alla grande commedia italiana da Totò a Sordi a Verdone sono diversi situazioni comiche a tratti anche grottesche silaranti ma mai banali È inevitabile perché noi ci siamo cresciuti amiamo il cinema in tutte le sue sfaccettature Luca Umberto e Francesco Pio sono anche attori nel film insieme a Francesco Vitale il protagonista che ha dato loro anche supporto e preziosi consigli ad altri interpreti molisani tutto made in Molise anche la colonna sonora importante rapporto di alcune attività locali che hanno sostenuto il progetto con sponsorizzazioni Entrambi si sono formati nella compagnia stabile del Molise sotto la guida di Paola Cerimele alla quale hanno dedicato il film Ci tenevamo perché al di là di quello che è successo lei veramente ci ha dato le basi che ci hanno permesso di almeno all'inizio di imparare qualcosa in campo recitativo la passione ce l'avevamo per noi però le tecniche e tutto ciò che si deve sapere ce l'ha insegnato lei a teatro Fondamentale l'apporto pure di un altro giovane Gianluca De Rubertis direttore della fotografia preciso professionale pignolo Lasciatemi tornare è la dimostrazione che il cinema in Molise si può fare Non abbiamo avuto problemi di location abbiamo trovato tutti gli spazi in cui poter girare e soprattutto ci sono molte persone che hanno un talento nascosto che proprio per questa mancanza di cinema in questa regione tendono a riprimerlo Per Lucumberto e Pipolos questi nomignoli un sogno si è realizzato e il futuro è da scrivere Già dalle prenotazioni siamo molto contenti perché praticamente in un giorno abbiamo riempito la sala in due orari differenti ci aspettiamo che piaccia che sia un bel trampolino di lancio non solo per noi ma per tutti quanti e proseguono anche le iniziative benefiche a favore delle famiglie in difficoltà dei minori svantaggiati è quello che a Campobasso fa anche l'associazione Molise Sorriso si è esibita la Jurassic Jack Jets Orchestra proprio a questo scopo alla ex Gil il resoconto è di Marta Martino Fanno tutti parte del laboratorio musicale della scuola di Telonus Monk di Campobasso i componenti della Jurassic Jazz Orchestra una band di giurastici così si definiscono loro che dal 2016 mettono la loro abilità il loro tempo e la loro passione a disposizione di iniziative benefiche questo laboratorio orchestrale si è trasformato piano piano in orchestra si è data fin dal primo momento come scopo quello di suonare quando usciva per beneficenza diverse le iniziative in giro per la regione soprattutto in questo periodo natalizio come quella che si è tenuta al palazzo Gil di Campobasso l'incasso è stato devoluto a Molise Sorriso che si occupa di minori e famiglie svantaggiate attualmente stiamo facendo delle attività che prevedono sia il recupero scolastico di decine di ragazzi sempre appartenenti a famiglie indigenti sia abbiamo una una sessantina di ragazzi anzi più di sessanta che svolgono attività sportive a carico dell'associazione e l'associazione pensa a tutto abbigliamento quote mensili trasporto certificati medici eccetera i giurastici sono tranne qualche eccezione professionisti che nella vita fanno altro e poi si dedicano al loro strumento del cuore ma non sono improvvisatori della domenica sono tutti frequentatori della scuola Telonio Smog noi come associazione ci teniamo molto a essere presenti sul territorio aiutare sia associazioni locali che nazionali abbiamo aiutato moltissimi progetti anche chiaramente all'estero nelle vesti di presentatore come sempre Luciano Carrieri musicista che con grande competenza e passione regala al pubblico nozioni e autentiche chicche sui brani eseguiti e sui compositori ascoltati di utilizzare anche questo momento per fare un po' di divulgazione di quella che è la cultura del jazz in Italia perché molto spesso si va ad assistere o non si va ad assistere ai concerti perché magari non si conosce bene che cosa si suona non si conosce bene un po' la storia nei concerti di queste festività una novità la bellissima voce della cantante Serena Minicucci è stato per me davvero un piacere un onore far parte dell'orchestra e fare questo soprattutto per beneficenza per chi è meno fortunato di noi nel ricordo di Paola Cerimele l'attrice di Agnone scomparsa a causa di un tragico incidente ricorderete questa estate la compagnia 4C torna in scena dopo 5 anni ad Agnone il servizio è di Enzo Luongo si torna a sorridere all'italo-argentino di Agnone grazie alla compagnia teatrale le 4C il sodalizio guidato da regista Giuseppe De Martino ha aperto la tre giorni di un mini festival invernacolo agnonese con una rappresentazione in tre atti che ha conquistato e divertito il pubblico uno sforzo congiunto quello di attori e tecnici che ha partorito un prodotto molto gradevole le 4C sono tornate sul palcoscenico a distanza di 5 anni nel nome di quella che per loro era una sorella Paola Cerimele l'attrice agnonese morta la scorsa estate in un incidente stradale sulla Trignina commovente il ricordo ad inizio spettacolo che De Martino e Saverio Lagamba hanno rivolto al pubblico mentre alle loro spalle passavano alcune immagini di una giovanissima Cerimele che ha iniziato la sua carriera partendo dal cenacolo culturale Camillo Carlo Magno le 4C i Dragoni del Molise i festival teatrali le prime rappresentazioni all'Italo Argentino con Mario Baldini sono state un tuffo al cuore nel ricordo di un'attrice e di una donna dalle qualità impareggiabili come dire Agnone non dimentica quel sorriso contagioso il lascito di una professionista stimata e apprezzata in tutta Italia un unicum nell'arte teatrale di cui tutti i molisani devono essere orgogliosi ha detto Francesco Di Lucci giovane attore della compagnia stabile del Molise con titolare l'Italo Argentino a Paola Cerimede credo sia un fatto normale ha così concluso tra gli applausi si intitola Amo tutti in Dio il nuovo libro di Brunella Pavone che racconta la storia di padre Innocenzo Cinicola Santoro un cappuccino nato a Campobasso che per anni è stato il confessore di padre Pio alla cappella sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo l'ha incontrata Marta Martino si intitola Amo tutti in Dio l'ultimo libro di Brunella Pavone dedicato alla figura del frate cappuccino Innocenzo Cinicola Santoro una figura minuta e gentile ma grande carisma e forza interiore nato nel 1906 nel centro storico di Campobasso nei pressi di Porta San Paolo e scelto da padre Pio come suo confessore come cappellano della casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo il libro presentato a Morcone all'interno delle manifestazioni organizzate dal comune per il Natale non è una vera e propria biografia ma testimonianze dirette raccolte da Brunella Pavone per ricordare il frate che è stato a lungo il suo padre spirituale facendo tesoro della mia continuità dei viaggi a San Giovanni Rotondo e avendo conosciuto tante persone soprattutto di casa sollievo e tanti suoi figli spirituali ho iniziato questo lavoro diciamo con tanta gioia io ho avuto appunto modo di conoscere tante tante persone sia a Campobasso anche perché per 23 anni portavo il gruppo di preghiera del quale sono animatrice il gruppo padre Pio del Santo Rosario a San Giovanni Rotondo e andavamo da padre innocenzo e poi ogni sabato io andavo a San Giovanni Rotondo perché lui mi dirigeva spiritualmente durante la serata in molti hanno voluto condividere con gli altri il loro personale ricordo del frate Cappuccino come Giulio Siena Libera Iacobacci e Antonio Morrone la prefazione del volume è stata curata da padre Aldo Broccato lui è stato scelto da padre Pio proprio per fare il cappellano fin dagli origini 1961 la casa Solievo era stata appena costruita e a partire da lì lui è rimasto lì 40 anni e ha svolto davvero un ministero prezioso ho detto nella mia presentazione al libro che quella è stata la sua parrocchia non era una parrocchia stabile come normalmente dovrebbe essere ma era questa parrocchia di persone che venivano seguite perché erano i degenti poi c'erano tutto il personale medico e paramedico poi c'erano i familiari dei malati presso i quali comunque padre Innocenzo svolgeva il suo servizio e adesso facciamo gli auguri alla signora Antonia Corona nata a Baranello il 26 dicembre del 1922 eccola nella foto con la torta che racconta i suoi 100 anni di vita Antonia ha condotto una vita semplice fatta di lavoro di aria buona e di cibo genuino ha una figlia felice che si prende cura di lei ogni giorno tre nipoti sei pronipoti e due pro pronipoti è una donna concreta e silenziosa parla solo se le si rivolge la parola e quando lo fa dà risposte sagge ed argute è il punto di riferimento della famiglia che ha organizzato per lei una grande festa gli auguri a lei da parte di tutta la famiglia e naturalmente anche di tutti noi da Telemolise e ora parliamo degli appuntamenti di Santo Stefano in Basso Molise dalle luminarie di Larino ai presepi eventi che rivivranno anche a Capodanno e all'Epifania il servizio di Andrea Nasillo luci, colori, musica e la magia della grotta il periodo del Natale è il più atteso sicuramente dai bambini ma anche da chi è cresciuto già da un po' in Basso Molise diverse le iniziative che richiamano questo spirito di condivisione in ogni paese almeno un simbolo di queste festività che a distanza di quasi tre anni ritrovano la libertà di un sorriso gli anni di Covid sono stati difficili tra i diversi eventi non manca lo spettacolo delle luminarie di Larino che è entrato nel vivo anche nella giornata di oggi le stradine del centro storico in festa con tanti turisti che già dal giorno di apertura hanno riempito di entusiasmo la città immenso il lavoro dell'associazione Larino nel cuore oltre alla straordinaria forza delle luci anche esibizioni musicali e percorsi gastronomici torna dopo due anni di stop il presepe vivente a Montenero di Bisaccia i volontari della Proloco Frentana hanno lavorato sodo per preparare le tante novità di quest'anno dalle scene al villaggio di Babbo Natale dal mercatino natalizio alle mostre tematiche dagli stand gastronomici e l'intrattenimento fino agli eventi per i più piccoli sprendi dalla cornice delle grotte arenarie porte aperte anche 1, 6 e 7 gennaio dal 17 alle 21 un ritorno gradito a Ururi il borgo che si trasforma in presepe evento particolarmente a cuore dell'associazione Le nostre radici in un lavoro di squadra con la parrocchia e l'amministrazione rappresentazione della natività che torna anche a Larino sempre nel borgo antico grazie all'impegno della CAR scene particolarmente suggestive oggi il 30 dicembre e il 6 gennaio non delude mai la mostra dei presepi a Campomarino promossa dall'associazione Borgo Antico oltre a stasera anche il giorno dell'Epifania un ultimo appuntamento prima di salutarci è il Rigoletto per Banda e Voci Soliste in scena oggi pomeriggio alle 18 e 30 a Montagano e poi domani a Larino che unisce l'associazione musicale Pistilli e Don Luigi Master Band direttore e la maestra Clara Galuppo con questa notizia chiudiamo l'edizione delle 14 del nostro telegiornale vi rimandiamo all'edizione di stasera per gli aggiornamenti per ora è tutto grazie per essere stati con noi da parte mia e della redazione ancora l'augurio di un buon Santo Stefano